buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli street gorilla oggi siamo qua per allenare tutto quanto il corpo senza niente in 10 minuti quindi diventerete grossi in 10 minuti muscolosi fisicati ovviamente scherziamo questo è solo l'inizio ovviamente quindi ripetiamo sempre che è meglio fare questo che stare sul divano cominciate così seguiteci vedete il vostro smartphone mettetelo di fianco a voi seguite quello che facciamo vi accompagneremo nel vostro percorso anche perché giorno dopo giorno vi accorgerete che i risultati arriveranno ovviamente non con un workout non con due workout ma dopo un anno di workout eh sì comunque si parte sempre da questo per poi arrivare veramente a grandi cose ma poche chiacchiere dai mettiamo il telefono e iniziamo subito si parte subito vi basterà a seguirci cominciamo col primo esercizio 3 push up più un bar peace molto semplice per 30 secondi ci siamo? 3 2 1 go facciamo 3 push up dai 2 3 su salto vengono giù 1 2 3 vengono su 1 2 3 vengono su e speriamo 3 e su 1 2 3 e su 1 2 3 e vengono su 1 2 3 e vengono su ok ora lo sappiamo a fondo quindi squat a fondo vado indietro squat e a fondo torno sullo squat e a fondo dai dai squat a fondo questo fa gambe fa cardio dai forza su esatto fa anche cardio perché comunque l'alternanza di esercizi uno dietro l'altro dai ok pausa bene dai adesso abbiamo un esercizio di addominali e poi dopo un esercizio di spalle tricipiti addominali forza guardate qui per qualità di esercizio portiamo questo qua vi condizionerà tutto il corpo è veramente oro questo circuito eh allora crunch ritraiamo facciamo un colpo di crancio e un colpo di le crisis via 1 2 potete anche di tenere distese le gambe a terra così prima 1 1 potete fare anche 1 mani su mani giù e vado su oppure tenerle sempre qua 1 e andare su 1 e andare su 1 mi raccomando sempre basta schiena a terra ok abbiamo adesso bike quindi gambe su si scende faccio un camminata tricep si spinge di nuovo su si cammina indietro di nuovo bike qua potete anche piegare leggermente le gambe se fate fatica questo è veramente ottimo anche perché sarete costretti a tenere gli addominali pausa abbiamo push up e archibody costretto scotto largo dai dai frattempo vi facciamo vedere l'abbigliamento ufficiale state gorilla e l'abbigliamento ufficiale trovate tutti i nostri prodotti che utilizziamo che apprezziamo che amiamo in descrizione un sacco di riferimenti strutture guide tutto quello che usiamo noi si può essere utile e descrizione provare per credere solo quindi push up e archibody ok quindi facciamo giù un push up appoggiamo tiriamo su e vado su il push up andiamo su mi raccomando respiriamo sempre ok e ora abbiamo squat 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 largo stretto largo stretto largo stretto potete andare o da una parte così oppure uno due uno dipende dallo spazio che avete esatto due uno due forza uno ok cosa questo per un principiante è ottimo perché comunque vi condiziona a livello generale su tutto poi chiaramente noi lo faremo due volte questo giro ma voi siete più forti dove farlo tre quattro cinque volte anche per il workout da sette otto minuti diventerà dieci quindici venti minuti diciamo che secondo me un bel condizionamento è fare tutto questo video tre volte in totale sei volte ok tre volte settimana è una bomba diciamo ci siamo abbiamo push up e barbis quindi 1 2 3 e su 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 1 2 2 3 e su 1 2 2 e su 1 2 vado indietro squat e vado indietro e vado indietro per chi inizia in realtà la fondo è sempre meglio farlo all'indietro piuttosto che in avanti ma anche se non cambia poi più comodo farlo indietro ti verrà che è un po più naturale diciamo si poi non è questa c'è questa grande differenza dai forza respiriamo sempre e ok dai crunch e poi abbiamo il bike questo è buono anche proprio per iniziare a fare calisthenics anche perché si va a lavorare su tutti i fasci muscolari insomma dorsali in questo caso non è importante pensare al singolo muscolo ma farli lavorare insieme condizionare un po tutto esatto lavorare tutto completamente che è anche quello calisthenics bene dai siamo crunch e leg resi quindi un crunch un leg resi un crunch un leg resi un crunch un leg resi e su respiriamo sempre vai dai dai anche per farvi sbaltire il weekend questo è ottimo dai bike camminata tricimpi ok 1 camminata davanti questo qua più che altro veramente a livello di controllo addominale è fantastico ok pausa dai ultimo blocco più scopo sì sì ci abbiamo push up arch body e lo squat stretto largo dai dai ovviamente potete anche sostituire questo blocco con altri esercizi se volete senza problemi l'importante è il metodo seguire lo schema è un ottimo schema che mi permette di in poco tempo di di allenarmi comunque che magari non ha tempo che va al lavoro che non c'è voglia ok via push up arch body quindi giù stendo su e vado su giù stendo su e vado su giù stendo su e vado su giù e ottimo sì perché ci si appoggia per terra ok ok squat dobbiamo squat stretto squat largo 1 2 1 2 oppure 1 2 1 2 dai dai forza questo qua veramente se fatto sei volte vi farà sudare per bene eh cioè per chi inizia anche solo questo però ok pausa adesso riposate 30 secondi se volete continuare continuate senza problemi ripeto secondo me un buon volume di allenamento è fare tutto questo video tre volte totale sei blocchi se blocchi è un bel workout perché se blocchi sono più o meno 20 minuti di allenamento in circa però chi inizia se non avete mai fatto nulla non avete poco tempo questo ragazzi è un buon inizio veramente piuttosto che niente fate questo veramente oro quindi provate a fare questo circuito ringraziamo di essere stati con noi chiaramente potete anche combinare questo workout con gli altri che abbiamo creato ovviamente ma nel frattempo ragazzi mi raccomando cliccate sul tasto like condividete il video anzi se volete di più mi raccomando qua sotto trovate tutti i link affiliati nostri per le guide tutto ragazzi le line integrazione c'è di tutto di più esatto perché se volete vi possiamo anche seguire in maniera personalizzata oppure abbiamo come diceva lui delle guide con dei workout più lunghi più difficili tutto in descrizione grazie per essere stati con noi ci vediamo in un prossimo video bella raga ciao ciao